Gesualdo Vercio, Real Time tra l'altro appena compiuto dieci anni di programmi ne ha tanti, noi oggi ci focalizziamo su questi dedicati all'amore, ma intanto ne parlava anche il promo, è arrivato il virus, è arrivata la pandemia, quindi come hai potuto riorganizzare tutto questo apparato così importante dove le persone si devono incontrare fisicamente, lo dice la parola, primo appuntamento, matrimonio, quindi altro che incontri, quindi come hai riorganizzato? Sì, diciamo che abbiamo iniziato questo decimo anno ed era l'anno in cui volevamo celebrare, volevamo fare di tutto, avevamo tanto in mente, in realtà poi forse la cosa che ci ha salvato è quella di avere un palinzesto ricco di contenuti che raccontano la realtà, quindi quello che stiamo facendo oggi a livello produttivo è proprio ritarare una serie di cose per rispettare le regole, ovviamente per ridurre al minimo tutti i rischi, ma continuando a raccontare la realtà. Devo dire che matrimonio a prima vista è stato il vero primo programma che noi abbiamo iniziato a girare dopo il lockdown. Perché il primo appuntamento era già pronto. Perché il primo appuntamento era già pronto, quindi le puntate che noi stiamo mandando in onda, quello è un altro dei fattori che ci ha permesso quest'anno di avere un palinzesto comunque continuamente ricco, ricco di novità, pieno di novità, perché noi abbiamo spesso uno scarto tra quando produciamo e quando siamo in onda di un periodo di tempo importante. Ovviamente non tutto potevamo mandare in onda durante il periodo di lockdown perché siamo tv commerciali, siamo tv che vivono di pubblicità, purtroppo uno degli effetti più grossi della pandemia è stato proprio una mancanza, un'assenza per ovvi motivi di investimenti pubblicitari e quindi devo dire che in realtà la pandemia ci ha permesso anche di arrivare ad un pubblico che prima non ci guardava perché poi effettivamente durante il periodo di lockdown gli ascolti sono stati pazzeschi per tutti e ancora di più per noi che comunque siamo fuori dai sette tradizionali canali della televisione e quindi comunque in quel periodo in cui si guardava di più la tv la gente ha avuto maggiore possibilità di andare oltre e quindi ci ha scoperto. Quindi anche tante repliche che noi abbiamo mandato in onda durante quel periodo per molti erano delle novità e poi credo anche un'altra cosa che durante quel periodo le persone avessero anche voglia di non sentire per una volta, per un'oretta, non sentir parlare di virus, di contagi che pure ci mancherebbe altro hanno condizionato la vita di tutti ma di sorridere, di pensare all'amore appunto al primo appuntamento, allo sposarsi, all'incontrarsi. Credo che fosse anche da questo punto di vista un aiuto all'umore del pubblico. Brava, sì, è proprio quella necessità di normalità che noi con i nostri programmi riuscivamo a portare a casa, leggerezza da un lato, divertimento ma anche poi medesimazione e ritorno in quella che poi voleva essere la normalità che tutti aspettavamo. Quindi per un periodo abbiamo mandato in onda repliche, motivo per cui il primo appuntamento oggi è in onda in prima tv con le puntate che avevamo registrato prima del lockdown. È partito proprio l'altro ieri? È partito l'altro ieri con le nuove puntate, con Ascolti Record, ormai è un appuntamento consolidato del martedì sera di una delle nostre due serate dedicate all'amore, perché il palinzesso di Real Time ha due serate dedicate all'amore, quella del martedì e quella della domenica con vari programmi. E quindi dicevo che il primo appuntamento l'avevamo registrato prima del lockdown e quindi siamo adesso in onda con le puntate nuove, matrimonio a prima vista dovevamo registrare a marzo, proprio da quando è partito il lockdown, tanto che noi le scelte le avevamo iniziate proprio prima di tutto e poi invece ci siamo trovati a questo stop. Quindi a maggio il primo programma che abbiamo iniziato a fare è stato proprio quello, continuando tra l'altro, e poi chi vedrà la serie in onda non anticipo niente, scoprirà una serie di cose continuando a fare i casting e devo dire che una delle impressioni, una dei dati che abbiamo è che comunque c'è molta più voglia in questo periodo da un lato di sentimenti, di vicinanza, di trovare l'anima gemella. Il lockdown ha probabilmente dato un accento in più a questa voglia e questa necessità delle persone e dall'altro anche di andare in tv. Comunque sono due elementi, abbiamo raccolto, considerate che per questa edizione tra prima e dopo lockdown abbiamo raccolto 10.000 richieste per partecipare a matrimonio a prima vista e matrimonio a prima vista è alquanto impegnativo come programma, mentre il primo appuntamento è una cena e quindi comunque è anche più facile dedicarsi e provare a trovare l'anima gemella durante una cena, matrimonio a prima vista invece è un vero e proprio contratto matrimoniale e devo dire che questo è stato l'anno in cui abbiamo ricevuto più richieste di partecipazione. Poi dicono che i matrimoni sono in calo, mica è vero. Sono in calo quelli normali perché vanno tutti a farli su real time, comunque fantastico. Però questo lo chiederò a Flavio e a Nada, come si formano i cast e anche al direttore, come si formano questi cast? Perché in entrambi i programmi direi che è fondamentale, tant'è vero che per esempio nel matrimonio, la formazione del cast è anche parte del programma, vero? Certo, la parte della selezione è la parte principale, almeno per quanto riguarda noi esperti. Nada Lofredi si occupa, è proprio un'esperta in rapporti di coppia, in sessuologia. Sono una psicoterapeuta di coppia e quindi... Possiamo andare da lei per sapere se non siamo sposati, come può buttare, anche se non partecipare al programma, se lo siamo, come muoverci, come comportarci. E quindi come li scegliete questi personaggi? Scusa, prima gli diciamo, scusa se ti interrompo solo un attimo per dire, lo conoscerete tutti, comunque matrimonio a prima vista è appunto, vengono formate da loro esperti una serie di coppie che poi vengono fatte sposare, veramente, con tanto di codice, assessore o quel che l'è, con la fascia, tricolore, e poi si vede come va. E sono quindi coppie formate a tavolino, nella tradizione, per cui spesso i matrimoni combinati nei secoli funzionavano meglio di quelli d'amore, no? Ecco, dimmi quindi come fate a formare questi... Quindi l'idea dell'esperimento è proprio questa, l'obiettivo dell'esperimento, io ci tengo sempre a precisarlo, non è tanto quello di capire, è andata bene, è andata male la coppia, quanto di osservare, penso che il telespettatore medio questo lo faccia, di osservare le dinamiche che vengono a crearsi, prima con Gesualdo commentavamo proprio questo, i candidati alla fine messi in questa situazione, quasi di cattività, perché in realtà sono costretti a sposarsi, a dire di sì, e a stare insieme, a cercare di costruire il rapporto, e poi tirano fuori nel bene e nel male alcuni aspetti della loro personalità che decisamente non pensavano di possedere. Quindi è davvero un esperimento psicologico-sociale? Quindi diventa un esperimento psicosociale. Al di là, ripeto, poi della fine, perché dopo cinque settimane di convivenza loro ci dicono se vogliono rimanere insieme o no, e insomma le percentuali non sono soddisfacenti. E qual è la percentuale? Non sono soddisfacenti. Ma io sono andata a leggere le step... Qualcuno però che resta insieme? Sì, assolutamente sì. Molti rimangono insieme dopo le cinque settimane, ma abbiamo visto che poi ai sei mesi dopo la situazione finisce. Quindi alla fine... Quindi la fase di selezione per noi è fondamentale. Cerchiamo di escludere naturalmente le personalità che non sarebbero adatte a partecipare ad un esperimento del genere e cerchiamo di ricavare tutti quegli indici di compatibilità psicologici in termini di valori della persona e in termini di stili d'attaccamento. Perché l'amore è una cosa seria in realtà ed è una cosa che non parte solo dal cuore, ma parte anche dalla testa. Quindi noi cerchiamo di mettere insieme le due componenti. Però proprio perché... Sai cosa stavo pensando? Che quando hai detto delle cinque settimane, tanta gente ha pensato però mica male sta roba, sarebbe da aggiungere a tutti perché poi quando uno si sposa non è detto che ritrova la donna che aveva conosciuto prima. Allora sarebbe giusto dargli una possibilità dopo cinque settimane, anche due mesi. Come si dice in Piemonte, mangiarci il sale insieme è un'altra cosa rispetto a conoscersi così. Ecco, ma questo fatto che c'è tutta una preparazione, le coppie scelte a tavolino e poi il trucco, il parrucco e poi il pranzo e poi il viaggio di nozze e poi questo e poi quello e nel vincolo, il sacro vincolo del matrimonio. Ecco, ma non è un modo, chiedo anche al direttore, non per, come dire, sminuire il concetto stesso di matrimonio. Alla fine è un gioco, è un programma televisivo. È vero, ma è vero o non è vero? Ma sì, è vero. Però in fondo, ecco, come... Anche Flavio puoi darmi una risposta. Visto che si parla di matrimoni, penso sia più giusto che rispondano loro. Da noi è un po' diverso perché noi facciamo un appuntamento, quindi è una cosa ovviamente che ha un carico di responsabilità inferiore. Loro fanno proprio sposare. Loro fanno sposare. Ecco, non è uno svilire il sacro vincolo. Una cosa in realtà che accumula tutti i programmi, in realtà anche primo appuntamento come matrimonio a prima vista, è che le persone davanti, quando si trovano in quelle situazioni lì, dimenticano le telecamere. Lo può dire Flavio, guardando il ristorante di primo appuntamento, lo può dire Nada. Si creano una serie di dinamiche per cui dimentichi le telecamere. Quindi non stai facendo una cosa davanti alla TV, ma la stai facendo perché la stai vivendo, che poi è la forza un po' dei nostri contenuti. Noi ci siamo resi conti nel tempo, quando abbiamo magari per necessità calcato la mano sul ricreare delle situazioni, alla fine risultavano veramente finte e brutte. Mentre quando lasci spazio alla verità e alla realtà, in realtà poi le persone si dimenticano e vanno avanti in serenità. E poi c'è un grande lavoro di montaggio perché poi il nostro modello produttivo è un modello produttivo in cui registri tanto e poi monti quello che effettivamente... È proprio così e credo che sia l'ingrediente proprio principale di una rete che si chiama Real Time, fornire contenuti quanto più possibili vicino alla realtà. Per esempio noi sul primo appuntamento e credo che sia proprio la forza del programma, oltre alla giacca rossa che indossa, che sia proprio la forza del programma sia un lavoro di casting fatto a monte, quindi nel cercare di fare un mismatch possibile, perché ovviamente diamo delle possibilità. Il casting è fondamentale, ovvio. Ma soprattutto nel fare un passo indietro, quindi farsi un po' da parte, per lasciare diciamo le coppie fruire della loro cena e quindi della loro esperienza nella più grande naturalità. E questo è quello che funziona. Oltre al fatto che Real Time ha anche il coraggio di proporre al pubblico una scelta che esula da vincoli di orientamento sessuale o di orientamento politico o di qualunque orientamento possibile. Quindi abbiamo un panorama vastissimo, molto ampio, anche anagraficamente parlando, che andiamo dai 18 anni fino agli 89. Quindi questa è la forza nel proporre alla gente a casa quello che veramente si trova per strada. E invece a proposito dello sbilire il contratto di matrimonio, Alessandra, ma io penso che sia esattamente il contrario. Se pensiamo che la coppia ed una vita di coppia comprende tre elementi fondamentali, uno è sicuramente l'impegno e la responsabilità verso l'altro e quindi anche contrarre il matrimonio è segno di impegno. L'altro è l'intimità psicologica e poi c'è tutta la componente dell'eros che tende, ahimè, anche a prevalere in certi aspetti. Noi partiamo dalla fine fondamentalmente, cioè partiamo da quel traguardo che le coppie tradizionali cercano di raggiungere e mettiamo di fronte a questi ragazzi alla necessità di impegnarsi prima per poi impegnarsi ancora a costruire un rapporto. Quindi io la penso esattamente come il contrario dello sbilire il matrimonio. Lo mettiamo al primo posto. Una sostanziale. Tu sei una psicoterapeuta, quindi un medico o psicologo. Comunque una psicologa con questa professione importante alle spalle. Ecco, com'è stato passare da una professione così, quindi di riflesso, sdraiati sulla poltrona, i pazienti, quelle cose lì, a essere tu stessa un personaggio televisivo, quindi passare altro che se dall'altra parte dell'etimo diciamo. Durissima perché non sono abituata e penso insomma che si noti, entusiasmante. Io non ho cambiato professione, continuo a stare nel mio studio e a vedere le mie coppie, nonché anche terapie individuali ed è un'esperienza che arricchisce moltissimo perché comunque si entra nel merito di queste situazioni che altro che finte e poco autentiche sono proprio diciamo alla base di quello che, cioè ci si mette dentro come un osservatore proprio. È interessante anche per il tuo lavoro. Assolutamente, non è più un racconto di quello che succede da parte di queste coppie ma è un viverlo. Ma se le partecipi è come essere, fare parte della loro narrazione personale. Assolutamente. E invece Flavio, e vabbè, Flavio Montrucchio è vincitore del, lo vedete, è un bel ragazzo. Grazie del ragazzo, oramai ho 45 anni. Quanti? È 45, 45. Davvero? Ah ma non divento vecchia soltanto io in questa casa, anche Flavio Montrucchio. Lui vinse, vi ricordate, il secondo grande fratello e adesso è attore, è cantante. Io personalmente lo ricordo, forse qualcuno l'avrà visto nel musical Grease per esempio. Tu hai fatto un Grease bellissimo. Mi fa piacere, era l'esordio teatrale. Era bello ma infatti ti interessa sempre, adesso stai, immagino che si è impegnato moltissimo con Real Time appunto, perché stai facendo anche Junior Bake Off, vero? Stai girando adesso un programma con Alessia Mancini, sua moglie, sta girando un programma dedicato ai cuochi bambini, giusto? Sì, quello sì, Bake Coffee, insomma è un po' anche una pietra, un altro diciamo caposaldo di Real Time, tratto ovviamente di dolci, quindi di cucina, di pasticceri, di pasticceri e nella versione diciamo adulta e quella canonica lo fa la Parodi, anzi gli faccio i complimenti anche per l'esordio a lei e al direttore per la partenza ottima. E poi c'è la versione diciamo dei bambini, quest'anno la rete ha deciso di affidarmi a me e a mia moglie insomma a questo compito, quindi li ringrazio perché comunque è un attestato di stima e poi facciamo anche un altro, sempre un altro Bake Off con gli adulti, quest'anno l'abbiamo ecco declinata, visto come dicevi tu prima le sfumature, le differenze che possono prendere i programmi in questo periodo particolare, l'abbiamo fatto una versione per congiunti diciamo, in modo da poter dare anche alle persone la possibilità di stare vicine e non ricreare quel distanziamento anche in televisione che a tratti potrebbe essere diciamo poco piacevole. Quindi faremo anche una versione per adulti a coppie che hanno deciso sempre di affidare a me, non so perché prendono queste decisioni, però in realtà è un canale che ama rischiare, capito? Ama rischiare, a me il rischio c'è. Poi vabbè per quanto riguarda il musical rimane una delle mie grandi... Anche Aladin hai fatto se non ricordo male. Sì, anzi poi poco tempo fa ha fatto anche sette spose per sette fratelli, assistina, insomma il musical è un po' se sapessi dove ti diverterai. È un po' il mio, diciamo, è la mia passione sicuramente perché il teatro è quello che più mi ha insegnato in questi vent'anni, è stato il palcoscenico che mi ha fatto conoscere tanti professionisti che a loro volta mi hanno insegnato a fare tante cose e poi il musical è un po', diciamo, per chi vuole fare l'artista, scusate se uso questa parola dalla mia bocca, ma diciamo, come dire, la prova più importante perché uno deve cimentarsi ovviamente con la recitazione, col ballo, col canto. E lo devi fare, il bluff se c'è viene fuori, se non hai il fiato per ballare, per cantare. Non si può rifare e quindi bisogna andare in diretta e questo ovviamente crea ansie ma anche grandi soddisfazioni quando si riesce a portare a termine, insomma, con un successo. Però adesso il dottor Vercio non te lo consente. No, ma poi, come dicevi te, l'età avanza, 45 anni, se dovessi cantare e ballare insieme si sentirebbe, allora ho detto, no, andiamo in televisione. In realtà il bello di Flavio è che dentro il primo appuntamento porta tutte le sue anime specifiche, che poi è un po' forse quella che è la nostra cifra distintiva nell'utilizzare personaggi anche più noti, personaggi che hanno magari avuto un percorso diverso nella loro vita, ma che portano nei nostri programmi non il personaggio ma la persona. Quindi portano un po' quello che loro hanno. Flavio porta la sua simpatia, la sua ironia e proprio per questo in Junior Back Off porta la sua famiglia, porta Alessia, perché comunque in Junior Back Off celebriamo un mondo di bambini che vivono la pasticceria in famiglia, allora chi meglio di Flavio con Alessia potevano farlo? Quindi è un po' quella la differenza poi nel fare, nel partecipare nei nostri programmi che vivono di realtà, ma perché proprio loro portano la loro realtà, la loro vita, la loro persona. E su questo devo spendere una lancia a sua favore anche se non avrebbe bisogno, perché primo appuntamento, che è il formato originale, The First Date, ovviamente confezionato in un certo modo, avrebbe diciamo certi paletti, quindi che noi ovviamente rispettiamo. Loro, cioè il direttore poi soprattutto, ha avuto il coraggio diciamo quando mi ha affidato il timone di questo programma di lasciarmi sperimentare e quindi anche di scardinare un po' questi paletti. Cioè facci qualche esempio, paletto e paletto scardinato. Come diceva lui, io faccio nel mezzo del programma spesso delle gag, degli alleggerimenti diciamo così, anche un po' in chiave comedy, perché sono un po' stupidino di mio. No, mi piace ovviamente sdrammatizzare, ironizzare, alleggerisci. Certo, perché ci sono dei momenti anche... A parte gli scherzi mi piace dare anche un'altra, una linea orizzontale, un programma che avrebbe una linea verticale molto precisa. Però non è da tutti dare questa possibilità, perché spesso un format quando funziona è intoccabile. E invece loro, devo dire che nella loro comunque probabilmente consapevolezza oppure assunzione del rischio, mi hanno permesso di fare questo e me lo permettono tuttora di fare. Io li ringrazio perché per un artista potersi esprimere anche con quello che ha di suo e di personale, come diceva lui, non è mai scontato. E quindi grazie ancora, non solo per avermi affidato questo programma e anche altri, ma soprattutto per lasciarmi sfogare anche. Prima o poi mi faranno anche cantare. Eh certo, devi farlo cantare e ballare ogni tanto un numero... Arriveremo, arriveremo. Sai, no? I locali dove si cena e nel frattempo si vedono dei numeri d'arte varia, ecco, e chi meglio di lui? Scusa, scontato, sarà scontato, ma il grande fratello, il grande fratello ha lanciato tanti artisti. No, tanti no, alcuni, diciamo alcuni. Modestamente il Piemonte ne ha dato almeno un paio di tutto rispetto. Ecco, questa è stata un'esperienza. Quanto ti ha formato, aiutato, invece condizionato positivamente, negativamente? Perché credo che dal grande fratello si possa uscirne anche negativamente, o no? Dimmi tu, non so. No, allora, ovviamente mi affido un po', diciamo, anche a dei ricordi perché sono passati vent'anni. Vent'anni, vent'anni, ragazzi. Il grande fratello ha vent'anni. Sicuramente per tanti, per il pubblico magari viene visto in un certo modo, per chi lo fa in un altro. Per me è stata un'esperienza come un altro dei tanti altri programmi che ho fatto. Chiaramente era il primo, quindi sicuramente è stato un po' quello che mi ha fatto conoscere. Ma non ha avuto nessuna riflessione, nessun'altra cosa che ho fatto dopo, perché non è che a fare teatro mi ha aiutato a fare il grande fratello, o neanche a fare l'attore o altro. E diciamo che ogni volta uno, cioè ho dovuto rinventarmi, o comunque ho scoperto delle cose che magari mi riuscivano di fare. E da lì è ogni volta riniziato. È un po' il bello e il brutto di chi fa questo lavoro, che non è mai arrivato e ogni volta deve riniziare da capo. Anche poi dopo magari tanti anni di attore, 10-15 anni in cui ho fatto l'attore, mi è nata la voglia di tornare in televisione e anche lì è stato di nuovo un ricominciare, perché non è scontato. Quindi sicuramente mi ha fatto conoscere il mondo anche dello spettacolo, ma devo essere onesto, come hai detto tu, due piemontesi ne sono usciti diciamo bene. Forse i piemontesi hanno quella, non che gli altri non ce l'abbiano, ma io sono sicuro di averlo e credo che ce l'abbia anche Luca, a cui tu ti riferisci, hanno quella consapevolezza di rimanere coi piedi ben saldi per terra e di fare un passo alla volta. Siamo un po' quei bugianen che... Senso positivo del termine, attaccateci pure, tanto noi siamo qua. Non c'è problema, nel senso che... Esatto, in questo senso proprio... Oh, viva, viva, un po' di sano piemo. Sì, sì, siamo qua, siamo ad Ogliani, vantiamoci del nostro bel Piemonte. E quindi diciamo che il piemontese prima di... Io per tanti anni, ma ancora adesso, ogni volta mi sveglio pensando che qualcuno si accorga che... E mi dice che ecco, ma questo è vent'anni che continua a lavorare, facciamolo fuori, ha già avuto abbastanza. E quindi, diciamo, questo rimanere ancorato, diciamo, bene a terra e ogni volta rimettersi in gioco, rianalizzando bene tutti i fattori, le capacità che uno potrebbe avere o non avere, crede che siano stati, diciamo, l'ingrediente fondamentale per un lungo decorso di questa professione. Sì. E poi, visto che stiamo parlando d'amore e anche di piemontesità, diciamo così, tu e Alessia, Alessia Mancini, una copia solida, solida e consolidata e duratura, cosa non così consueta nel dorato mondo dello spettacolo. Anche questa impostazione che evidentemente hai, avete dato al matrimonio, è legata a questo contesto di piemontesità. Sì, infatti... Non c'entra niente. No, no, c'entra, perché noi infatti stiamo insieme da 17 anni, proprio grazie a questo. Cioè, io vivo in Piemonte e lei vive in Lazio, capito? Ah, quindi star lontani è la vecchia ricetta. Cosa ne dici, dottoressa? È vero? È così? Sì, ma non penso. Lo dici anche ai tuoi? Guarda, ti posso dire una cosa, io e Alessia abbiamo ripercorso un po' per quanto riguarda matrimonio a prima vista, un po' questo esperimento, perché io ho sposato mia moglie... E non la conoscevi. Esattamente così, folgorato, quindi diciamo che è stato un innamoramento veloce e mi sono sposato senza veramente conoscere, ci siamo conosciuti dopo. Cioè, come matrimonio a prima vista. Dopo quanto tempo vi siete sposati? Un mese. Davvero? Sì. Dopo un mese che vi conoscevate vi siete sposati? Quindi? Per bacco, quindi vedi... Queste teorie bisogna aspettare due anni almeno per far passare l'innamoramento, per vedere se è amore. No, in realtà non ci sono delle teorie, non ci sono delle regole. Quello che conta, penso, è che quello che caratterizza forse la loro coppia è la capacità di rinnovare ogni giorno, no? Questo impegno verso l'altro, quindi al di là della battuta, della distanza, insomma. Perché in una coppia quello che serve non è tanto l'emozione, l'eros stesso. Io sono una sessuologa, quindi parlo, diciamo, contro... Con cognizione di causa e contro il tuo interesse. Sì, certo. Ce ne vanno tanti, ce ne vanno gli ingredienti. Ce ne vogliono tanti e credo anche molto per buona volontà. Sì. Vero? Non so come dirla diversamente. Un impegno che non significa appesantire e pensare, diciamo, all'aspetto... Crederci e volerci credere. Però credo che anche, un po' così, una banalità assoluta, ma questo che, scherzando, ha detto Flavio, non è così assurdo. Quello non starsi troppo addosso. Assolutamente. Una regoletta generale, forse è vero. Beh, se pensiamo che la parola desiderio deriva proprio da questo, e cioè l'assenza degli astri, no? L'aurospice che leggeva il futuro guardando gli astri, nelle notti nuolose non riusciva. E quindi l'aspirazione a rivedere di nuovo la persona, in questo caso, no? E quindi che alimenta il desiderio. Cioè, stare a distanza è la regolazione. Può essere, diciamo. Certo. E lui ha cominciato tanti anni fa, vent'anni fa, con il grande fratello. Poi da queste esperienze è diventata una professione. Tu che hai cominciato... È il tuo primo programma? È il mio primo programma. Ho partecipato in anni addietro. Però dall'altra parte è una barricata, come esperto. No, sì, sì. Eh, appunto. Ho fatto, diciamo, qualche intervento. Questo è il primo programma, però sono già cinque anni. Eh sì, e quindi diventerà, diventa... E quindi inizia a diventare, diciamo, un impegno sicuramente più massiccio. Ho iniziato in realtà quasi per caso, non pensavo di poter conciliare. E con tanti timori, perché per la nostra professione apparire in video, insomma, può essere visto bene, ma anche può creare un pregiudizio. Perché, come sapete, la dottoressa appare in video ed è parte integrante del programma. Cioè, lei c'è e ci fa vedere, lei e altri colleghi, come, appunto, scientificamente si formano queste coppie, che poi, queste possibili coppie, che poi saranno scremate e poi... E poi corre anche dei rischi professionalmente, perché poi dopo uno vede da casa una coppia che non gli piace e dice, è colpa sua, allora da lei non ci andiamo più. Davvero? E devo dire che, in questo senso, insomma, la scelta di farlo, questo programma, è stata molto pensata, perché mi avevano proposto anche altri tipi di programmi e non avevo mai accettato. Questo, la qualità dell'esperimento, il tipo proprio di programma, invece, mi ha convinto che potesse essere non solo un arricchimento per me, ma che non andasse a sciupare, ecco, a quella che è, in realtà, la mia professione. E quindi, nella tua professione, il fatto di fare televisione, di far parte di un programma, aiutano, cioè, ai più pazienti, né di meno? No, sicuramente c'è stato un indotto, no, assolutamente, per i nuovi. I vecchi, alcuni lo sanno, alcuni non lo sanno, quindi, insomma, ci si comporta un po' come... non ne faccio pubblicità, però, no, apprezzano, apprezzano, sì, devo dire che... Che sono contenti di andare dall'esperta conosciuto in televisione. Al direttore volevo chiedere un'altra cosa. I programmi di real time, spesso, ma prendiamo anche questi, sia il matrimonio, sia il primo appuntamento, ci sono a volte dei personaggi, vengono scelti personaggi molto particolari. Una volta ho visto io una ragazza, mi aveva molto colpito, era molto simpatica, aveva delle specie di pantacollanda, sirena, con un vestito, con una roba militare sopra, e diceva che era una fashion, sì che non so neanche che cosa fosse, mi sembrava veramente improbabile. Insomma, personaggi improbabili, ma simpatici, però... Funzionali. Funzionali. Ecco, mi è venuto in mente, guardando un po' di puntate, dei programmi, vi ricordate i film di Dino Risi, i mostri, i nuovi mostri, sai quello, Tognazzi e Gasman, e poi i nuovi mostri, Alberto Sordi, il Dentone, ecco. Sapete, no, che venivano identificati dal cinema, dalla commedia all'italiana, dei personaggi un po' spinti, particolari, di finzione, che dovevano essere così una parodia di quella che era la realtà, mentre Real Time propone la realtà. Abbiamo fatto il passo avanti. Abbiamo fatto il passo avanti. E quindi, effetto, ma sono cercati i monstra, proprio come i prodigi, i prodigi in senso latino, è così? Ma è un bellissimo lavoro di casting, poi detto che quello che vi dicevo prima, che c'è tanta richiesta di partecipare ai nostri programmi, è loro, in realtà, tutto quello che noi vediamo, è quello che comunque rappresenta tutta l'Italia e tutte le tipologie di persone. Cioè, noi non ci fermiamo davanti a nessuno, quindi non è la ricerca... Fermate davanti a niente. Non è la ricerca dello standard, ma è la ricerca della diversità, della varietà, di tutto, dove poi, in realtà, anche nel personaggio più strano, la persona da casa può immedesimarsi. E devo dire che noi spesso lo facciamo anche chi lavora nella scelta, poi, dei casi. In tante volte ti ricorda, ah, ma guarda, quello mi ricorda quella persona lì. Seppur in maniera estrema, magari ha delle accentuazioni molto forti, ma in realtà, poi, dentro di sé ha qualcosa che comunque dà l'opportunità a chi ci guarda da casa di immedesimarsi, o in sé, o in persone vicine. Perché poi la forza è veramente quella, e quando mi dicono quante puntate di primo appuntamento possiamo fare, ne potremmo fare veramente tantissime. Le persone sono così, sono strane, sono navarie. Varie, perché poi, comunque, sì, abbiamo la persona strana, ma abbiamo la persona normalissima, ma che ha alle spalle una storia bellissima e pazzesca dietro. Perché quando tu, magari, vedi sedere al tavolino due persone normali, era la prima puntata della prima stagione, non c'era ancora Flavio, vedi questa ragazza bellissima seduta al tavolo, era sulla sedia a rotelle. Una storia, poi, bellissima, che ha raccontato la persona davanti a lui durante il primo appuntamento, ma al primo occhio è la persona più normale, ma che poi aveva avuto dietro una storia pazzesca. Mentre poi, magari, hai la persona, nelle sue stranezze, magari, di abbigliamento o di scelte di vita particolari, ma poi, alla fine, ha una storia normalissima. E Flavio, appunto, tu li vedi? Come ti poni? Quando li vedi, intanto? Senza contare che chi spesso è così eccentrico e strano, ha problemi a trovare l'anima gemella. Perché, adesso, a parte gli scherzi, arrivano perso, di solito, quelli veramente over the top, cioè, un po', di solito, è capitato anche che fossero alla prima tentativa di esperienza. Quindi, perché probabilmente hanno difficoltà a trovare qualcuno di simile a sé. E allora, in questo caso, si rivolgono, per assurdo, a qualcun altro che potrebbe aiutarli nella ricerca di qualcuno quanto più simile a sé. Ma secondo te ci credono, ci rivolgono sul serio perché sperano che magari attraverso questo primo appuntamento TV... Assolutamente sì, lo capisco che sia strano, ma è così, sì. Considerate, in Inghilterra, su Channel 4, per anni, e ancora oggi, credo ci sia, il programma Undatables, dove praticamente persone, comunque, che hanno disabilità di vario tipo, problemi personali di vario tipo, che comunque fanno fatica ad approcciarsi al primo appuntamento. E invece, un programma televisivo ti può dare quell'opportunità perché... La TV taumaturga che risolve i tuoi problemi. Sì, che ti aiuta, ti dà quell'opportunità, magari ti dici, no, se io dovessi chiedere a Tizio, comunque dovrei... Cioè, anche il dating online ormai ha avuto un'esplosione enorme. Magari, in quella fase lì, di dover trovare, di andare in un sito e farlo, magari non lo fai, il programma invece ti spinge a farlo e ti aiuta a farlo. Tu, Flavio, quando li vedi questi personaggi? Come si svolge il programma? A me piace vederli anche nel casting, cioè, spesso, perché mi incuriosisce proprio, non sarebbe necessario, diciamo, per la figura poi del conduttore di programma, però mi incuriosisce, visto che poi dopo comunque devo parlare di loro, quindi mi piace sapere anche di chi sto parlando. Come ti dicevo prima, la forza era proprio quella di avere una vastità e quindi di essere molto larghi nella scelta delle persone. Talvolta, devo ammettere, anche io, sempre da piemontesi, ho avuto, come dire, qualche... No, che mi sono comunque, diciamo, così, stupito di fronte a alcune persone, ma per mia ignoranza, perché non conoscevo tante sfumature dell'amore che ci potevano essere. Quindi, la prima volta che ho visto una, dovevo dire di questa, era poliamorosa, e dicevo, cavolo, cioè, veramente, scusate, sono ignorante in materia, mi sono andato, ho dovuto documentare. Oppure, come dire, c'era una persona che diceva, si vestiva da donna, però era, come dire, però voleva essere uomo. Perché ci sono tante sfumature che io non conoscevo, ma che ho conosciuto, quindi ho colmato parte della mia ignoranza, e poi, effettivamente, magari la mia stranezza è stata, come dire, scardinata. Perché poi, invece, queste persone sono molto vere in quello che fanno, e quindi mi sono accorto di quante possibilità ci sono, di quante sfumature possa avere l'amore, di quante persone diverse ci siano tra di noi. Perché? E questo è. Rispetto a questo, mi piace sempre fare un esempio di una delle cose che noi, anni e anni fa, abbiamo mandato in onda su Real Time, dal nostro canale americano TLC, che è Little Couple, questa famiglia di nani, che uno, quando lo guardi, dice, ah, una famiglia di nani, oddio, ma ci fanno vedere una famiglia di nani. Le mie ballerine, vedi la televisione, fatta così. E invece, quella famiglia lì ha tutte le tipiche situazioni di una famiglia qualsiasi, che porta ad un'immedesimazione molto forte, una passione per la loro storia importante, dalla ricerca del figlio e poi l'adozione, il cancro, l'acquisto della nuova casa, e quindi lo spostarsi da una città all'altra e vivere un'altra casa. Tutte situazioni che poi permettono a chi è a casa di immedesimarsi e di vivere con passione una determinata storia, al di là poi di quello che è la confezione, quello che tu vedi a primo impatto. In primo appuntamento c'è questo, in primo appuntamento veramente c'è l'insieme di tutte le tipologie di persone, di storie che abbiamo raccontato negli anni su Real Time, perché Real Time è da sempre stato il canale della diversità. Abbiamo raccontato la diversità in tutte le sfaccettature. In primo appuntamento racconti il primo appuntamento di qualsiasi persona, ma che poi ha un filo conduttore unico. E poi come li seguite anche un po', infatti ci fate sapere quello che succede, anche poi quel che succede, poi li abbandoniamo. Noi ci fermiamo lì, per adesso, perché il direttore ha sempre un sacco di idee. Però l'unico caso in cui abbiamo svelato il proseguo è stato quest'anno, perché una coppia dell'anno scorso che si era fatta al loro primo appuntamento e si era piaciuta particolarmente, quest'anno si è sposata. Quindi è tornata nel nostro ristorante e lui gli ha chiesto di sposarsi proprio lì in diretta, perché quel primo appuntamento per lui è stato ovviamente un cambio importante, quindi ha voluto sancire la sua proposta di matrimonio di nuovo sul luogo del diritto. Però è l'unico caso in cui raccontiamo poi quello che succede, anche se il pubblico vuole sapere. Infatti è molto affezionato ai titoli che vengono, lo dico al direttore. Possiamo rallentare un po' i titoli? No, perché in Coda c'è da formato proprio il sapere dopo la fine del programma se hanno continuato a vedersi, a sentirsi. Perché poi diciamo la verità, l'appuntamento al buio lo vorremmo fare tutti un po' una volta nella vita. E allora poi si è curioso, ma funziona questo appuntamento al buio? Allora fammi vedere se funziona. Quindi uno è incuriosito poi dal finale. Perché poi nel programma, l'avrete visto, ci sono Mario e Giovanna, non si sono più visti. Ma Mario ha cercato Giovanna tre volte e lei non gli ha mai risposto. Giovanna ha cercato mai... E si dice, ci dite un po' come è andato a finire. Ma i tuoi interventi te li fai tu, te li scrivono, fate insieme? Ti piacciono o no? Perché ti rispondo a seconda di come mi rispondi tu. Moltissimo! Allora li faccio io. E i tuoi, dottoressa, come succede? C'è un copione? Come lavorate? No, c'è un copione, ma soltanto per quelle parti, non lo so, il discorso della comunicazione finale, la decisione, piuttosto la comunicazione di matrimonio. In realtà no, lì si va a braccio. Dipende da quello che succede, perché le nostre coppie vengono invece seguite in tutto il percorso. Quindi noi facciamo degli interventi... E poi invece il vostro, il programma è proprio seguire tutte le coppie dal percorso... Sì, quindi dalla fase di selezione, il loro primo giorno, il momento del ritorno dal viaggio di nozze, perché solitamente il viaggio di nozze è appunto una luna di miele, più o meno, ma il ritorno diventa... È paura, ragazzi. Ebbene, appunto, drammatico. I momenti salienti li seguiamo e con incontri, dal vivo generalmente quest'anno, ahimè, abbiamo dovuto optare per videochiamate e quant'altro, però continuiamo a seguirli, a volte anche dopo le cinque settimane, perché magari c'è la possibilità che succeda qualcosa a sei mesi. Che cosa ci offrirai nella prossima? Sì, l'hai detto, il covid, i condizionamenti, ma che cosa hai in mente di prendere dalla parte americana? Cioè, il futuro? Sicuramente raccontare sempre la realtà. Adesso comunque, con Nada, sentendola parlare ancora di più, mi fa sorridere l'idea di come ci piacerebbe poi andare oltre le sei settimane, i sei mesi, anche i sei mesi dopo, perché una delle cose che vediamo essere sempre più contemporanea è la terapia di coppia e quella sicuramente è una cosa che ci piacerebbe esplorare, provare a capire un po' di più delle coppie quando vanno avanti. E anche con Flavio ragioniamo sempre su come poi poter raccontare altre sfaccettature dei primi appuntamenti, dell'amore, delle persone che hanno rappresentato qualcosa nella vita. Quindi, diciamo che il pensiero su come raccontare l'amore, le relazioni, i sentimenti, guardando la realtà e quindi vedendo quello che succede, può ancora andare avanti. Quindi di formati nuovi, originali, potrebbero essercene sicuramente tanti. Allora, lo prendiamo, avete sentito bene? Eh, eh, infatti, infatti. No, no, ci lavoriamo proprio in un'ottica di osserviamo la realtà e vediamo dove possiamo andare oltre. Quindi sicuramente è un lavoro che ci spinge. E poi il bello di parlare con loro è proprio quello, che comunque ognuno di noi vede la realtà e vede una parte di realtà e da lì possiamo andare avanti nel fare nuovi programmi. Certo, sul piano dell'amore e poi real time di altri piani ne affronta, di piani di realtà ne affronta tanti, insomma. Non ci è risparmiato niente, no? Come ti vesti, come ti svesti, come ti trucchi, come qualunque sei magro, sei grasso. E adesso la cosa su cui infatti stiamo lavorando, che è molto contemporanea e molto attuale, è il mondo delle pulizie. Perché comunque è sicuramente uno dei temi più caldi in questo momento. Stiamo lavorando ad una nuova serie, una family business di donne che vanno in giro per Milano in particolare, ma comunque poi in generale tutta l'Italia, pur essendo loro pugliesi, a pulire le case più sporche. Uno dei temi che su real time è sempre stato presente con programmi internazionali e forse questa volta riusciamo a farlo in maniera italiana, in maniera verace, in maniera calda, con questa family business pugliese, quindi anche lì persone che portano la loro vita vera in tv e che raccontano uno dei temi più contemporanei e più caldi del momento. Assolutamente, mamma, quello delle pulizie. E su real time, quello degli accumulatori compulsivi? Sì, abbiamo fatto anche uno speciale italiano. Vero. E comunque era uno dedicato, sapete, coloro che hanno le case... Che accumulano. Che debordano di cose accumulate, ma che vanno da... Tutto, vecchi paio di scarpe alle scatole della pizza che non... Ma appena mangiate. All'inizio può sembrare collezionismo, poi invece patologia. Possono sempre servire. Tutto può servire, vero? Ah, può sempre servire. Ancora una dottoressa. Ma questa tendenza contemporanea di andare, appunto, in televisione a fare qualunque cosa, come la... da sposarsi, a vivere, a morire, a lasciarsi, a pettinarsi, a spettinarsi, tutto, tutto. Come la... O è sempre esistita soltanto che non c'era la tele, anche i tempi dei greci lo facevano, solo che non c'era la tele. Sì, assolutamente. Se noi pensiamo che il termine personalità deriva da persona, che persona vuol dire maschera in qualche modo. Quindi è sempre esistita oggi persone, probabilmente come Gesualdo, danno la possibilità con questo tipo di programma anche a persone, diciamo, comuni, no? E quindi che non siano, che non facciano questo di professione, ad arrivare ad apparire. Quindi questo di apparire. Questo di apparire, che lo vediamo sempre con un occhio un po'... Negativo, noi siamo un po' snobbettini. Sì, però in realtà apparire deriva proprio dal tirare fuori, no? Anche quando indossiamo una maschera, noi facciamo un po' come il gioco del come se. Per oggi, no? Io sono a carnevale, adesso non va più di moda, ma era quel momento in cui io potevo tirare fuori qualcosa. Quello che ero vera, magari la mia vera personalità e mi era così. Magari non avrei mai avuto il coraggio. Se me l'inanno, una volta l'anno si poteva fare, certo, certo. Quindi io penso che sia, forse ecco, tenendo sempre i piedi per terra, come ci dice il buon piemontese Flavio, ma penso che sia invece l'esperienza, un'esperienza importante, che può far tirare fuori più che semplicemente, diciamo, farci apparire. E fu così anche al grande, lo so che vent'anni fa, siccome hai una certa età, non ti ricorderai più tanto bene, ma fu così anche al grande fratello, che venivano veramente fuori attraverso questa esperienza della telecamera che ti seguiva sempre, venivano fuori le reali patè d'animo delle persone. No, non credo, non credo. Era finta. Credo che sia l'intelligenza delle persone, capire dove sei e muoverti di conseguenza. Quindi quello era più, era meno reale. È soggettivo qui, per una persona sarà un certo tipo di cose, per un'altra qualcos'altro. Però è molto soggettivo, insomma, ogni persona la vive diversamente. Io se vedo una telecamera che si accende, ho la consapevolezza di dove siamo. Qualcun altro, probabilmente no. Poi dipende anche di cosa parliamo. Se è un set televisivo con 5.000 luci sparate, probabilmente è difficile rimanere se stessi. Se andiamo dentro un ristorante di primo appuntamento, dove la cosa a cui stiamo più attenti in assoluto, e non dare la sensazione a chi entra, che ci sia un programma televisivo, noi pensiamo che le coppie che entrano dentro, gli diamo un appuntamento, cioè gli diciamo vieni là a quell'ora lì, ma non mi incontrano mai. Io non parlo con loro finché... mai. Cioè io non li incontro. E tu non li incontro, certo. No, sto ben attento a non disturbarli, a non dargli la possibilità di uscire da quello che stanno vivendo in quel momento. Le telecamere sono tutte nascoste, tutte remotate, non c'è nessun operatore che gira così davanti a te mentre stai facendo la cena. Non c'è niente, tutti nascosti. E anche il personale, tolto me, tutto il personale che è all'interno del programma, il metre o il cuoco, sono persone che fanno quello di lavoro tutti i giorni, il ristorante è aperto tutti i giorni dell'anno. Noi lo prendiamo in prestito per qualche giorno, ma dentro c'è anche gente che va solamente a mangiare senza fare il primo appuntamento. Quindi il nostro primo ingrediente, ma questo credo che sia la peculiarità di Real Time, per mantenere forte l'aspetto Real, è proprio questo, cioè di non dare elementi alla persona che viene, al protagonista, per potersi esulare da quello che sta vivendo e quello che interessa a noi che viva. Quindi è esattamente l'opposto, diciamo, un po' del Grande Fratello. È già del Grande Fratello. Quindi questo è molto interessante. Tutto nascosto, bisogna sottolinearlo bene, perché veramente è tutto nascosto, cioè non hai idea. Tu sai che, certo, ovviamente, loro lo sanno e ci mancherebbe altro, però non hanno, è come fosse una candid camera. Pensa che io, per non farmi vedere, mi nascondo dietro i pali, capito? È così, certo. Nascondo dalla cucina, vado da tutte le parti. Meglio la giacca rosso o la giacca d'oro? Infatti il bello di quel programma è proprio come origliare il tavolo a fianco. È bellissimo dalla regia. Io tante volte ho il sogno di avere gli appuntamenti, le cene intere, dove tu comunque, magari sul nostro replay, sulla piattaforma digitale, ti segui tutta la cena, perché noi regia seguiamo tutta la cena dall'inizio alla fine, veramente è come origliare il tavolo a fianco. Uno degli ultimi appuntamenti, anche per fare un link tra le due cose che ho seguito in regia, è stato quello di Fulvio di Matrimonio a Prima Vista, perché l'anno scorso avevamo avuto come uno dei protagonisti, una delle coppie più discusse della scorsa stagione di Matrimonio a Prima Vista, aveva come protagonista Fulvio, che era poi stato lasciato in malo modo, tra virgolette, dalla consorte, gli abbiamo dato una seconda opportunità in primo appuntamento. Quello è stato uno dei pochi casi in cui abbiamo avuto lo speciale su Dplay dell'appuntamento più lungo, della cena più lunga, perché veramente potresti seguire come origliare il tavolo a fianco tutta la cena, una cena normalissima senza nessun tipo di intoppo. Che storica! Ci abbiamo provato in tutti i modi a fidanzarlo, ma questo è niente. Ma no, niente, niente, niente. Ci direi nemmeno voi. Però vedi, anche qua il coraggio, non è che gli abbiamo detto però fidanzati per finta nel programma perché già sei uscito male di là. No, la realtà, abbiamo raccontato quello che è successo. No, si è sposato e non è andato bene, ha fatto il suo appuntamento e non è andato bene, ma nessuno ha voluto cambiare qualcosa. Una delle domande che facevi sempre a Nada è il tema della popolarità di andare in tv. Noi non avevamo chiesto alla persona se l'aveva mai visto matrimonio a prima vista e se conosceva lui. Lui si è trovato di fronte a una persona al tavolo che non lo conosceva. Quindi non aveva, lui era arrivato... Non l'aveva riconosciuto, non sapeva che aveva avuto quest'altra esperienza. Lui era arrivato lì convinto di avere questo primo appuntamento da star, invece quella non aveva idea di chi. Torniamo un attimo al musical, l'hai fatto, Grisa hai fatto. Qual è quello che, al di là del fatto che il direttore non ti lascia adesso andare a fare teatro, ci mancherebbe altro? No, è vero che non mi lascia. Ti lascia però poi devi fare... No, non mi lascia ma mi dà la fortuna di impegnarmi, di darmi talmente impegni che non ho tempo di... Ma quale ti piacerebbe così? Che musical... Guarda, io una volta avevo... Io purtroppo ho una vena creativa molto proficua, no, proficua no, anzi, molto florida diciamo, no? Quindi spesso ho un sacco di idee e lui purtroppo se le deve sorbire perché ogni giorno gli dico mi è venuta questa idea di sto programma, mi è venuta questa idea... E ce l'ho anche per quanto riguarda il teatro. A me sarebbe piaciuto tantissimo e mi piacerebbe un giorno fare, riportare in musical i film di Bud Spencer e Terence Hill. Ma dai! Quindi mi piacerebbe tantissimo un giorno fare, che ne so, altrimenti ci arrabbiamo. Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità. E invece che danno le botte facciamo dei balletti, perché si potrebbe coreografare questa cosa. Ah, è bellissimo! Quindi se un giorno dovessi ritornare, mi piacerebbe tornare con una cosa mia, perché adesso, diciamo, mi piacerebbe, mi piace sempre di più mettermi in gioco, quindi rischiare anche di far vedere non solo quello che sono, ma anche l'idea che ho. Ma diamo lo scoop! No, 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 non è uno scoop, non è uno scoop, però... Però ti dicevo prima, io da buon piemontese ho i piedi per terra, ma con la testa volo molto in alto. Molto nelle nuvole. Grazie, grazie al direttore di Real Times, Gesualdo Vercio, grazie a Flavio Montrucchio, grazie a Nada Loffredi, grazie al sindaco di Dogliani, per esempio, che è qua in prima fila a sentirci in curante del sole, grazie a tutto il pubblico, ciao! E anche per la resistenza, a presto, grazie. A mezzo giorno, per la resistenza che hanno avuto. Eh sì, certo, grazie. Grazie a tutti.